Buonasera a tutti e a tutti, inizio facendo un po' un escursus di quello che è stato il lavoro dei comitati territoriali di questi ultimi anni, anche personalmente il mio lavoro all'interno della rete di Friday for Future. Allora, siamo partiti prima ancora della nascita di Friday for Future facendo una scommessa l'8 dicembre a Padova, chiamando un'assemblea dopo le varie catastrofi che avevano segnato i nostri territori legati ai cambiamenti climatici, ricordiamo la tempesta del Vaia, ma ancora prima il tornado della riviera del Brenta, e abbiamo deciso di dare vita a questa assemblea che riunisse appunto, come è stato già detto prima, un po' tutte le anime, un po' tutti i comitati, le battaglie che sono presenti nel nostro territorio, che purtroppo dopo quella grande assemblea, quella grande manifestazione che ha visto migliaia di persone scendere in piazza a Padova, e nei tavoli di lavoro che abbiamo fatto poi a Vicenza abbiamo visto avere una gran quantità di conflitti e di siti pesantemente inquinati. Basti pensare a Lamiteni che ha inquinato una delle falde acquifere più grandi d'Europa, ma non solo a tutta la questione degli inceneritori, delle grandi opere, della cementificazione, ricordiamo che la nostra è una delle regioni con un tasso di cementificazione più alto d'Italia, ma non solo, anche d'Europa, e diciamo da lì era nata quest'idea di dividersi in tavoli di lavoro che ha creato comunque un'ottima collaborazione tra i comitati, sfociando poi in quelle che sono state le manifestazioni di Friday for Future che hanno visto ancora più migliaia di persone scendere in piazza, soprattutto molti giovani, proprio per reclamare il diritto a un futuro degno e a un futuro in cui poter vivere, perché sappiamo bene che di fatto non bastassero le mille contraddizioni, le mille problematiche che abbiamo nei nostri territori, ma la questione è una questione globale ed è una cosa emersa proprio grazie agli scioperi di Friday for Future, perché abbiamo visto in tutti i paesi del mondo migliaia di persone scendere per chiedere giustizia climatica e giustizia sociale. L'abbiamo visto e da lì abbiamo anche sentito la necessità di indicare i nemici reali, coloro che sono responsabili di questi cambiamenti, sia nel macro e sia nel micro, perché sappiamo bene che non può esserci battaglia globale senza partire dai nostri territori. E rispetto a quello che si diceva prima mi viene da pensare che alle mille esperienze che abbiamo visto anche in giro per il mondo, penso agli zapatisti in Chiapas, penso ai kurdi in Erojava, tutte esperienze che si sono messe in gioco, hanno praticato l'autogoverno e l'autotutela dei territori sotto varie forme, anche usando in certi casi la violenza, perché di fronte all'estrazione di valore dalle nostre vite, di fronte al costante sfruttamento delle nostre vite e dei nostri territori, a una certa ci deve essere uno strappo. E da lì è nata anche la nostra necessità di dover indicare quali sono i responsabili, indicarlo con forza, l'abbiamo fatto la prima volta con il Climate Camp che abbiamo fatto a Lido di Venezia, occupando il red carpet assieme anche ad altri movimenti che abbiamo conosciuto in giro per l'Europa, penso a Ende Galende in Germania, penso a Shell Mass Fall, e abbiamo cercato di... ci siamo presi quel palco scenico per dire che la crisi climatica è qui e ora, è qui e ora, dobbiamo agire. Quello è stato un primo appuntamento, poi è arrivata la pandemia e come abbiamo detto, la pandemia ci ha profondamente segnati e sconvolti tutti quanti. Di fatto però ci ha reso di fronte molto più chiaramente a quanto siano connesse tra di loro tutte le nostre lotte che ogni giorno facciamo, dalle battaglie dei lavoratori della logistica, dalle battaglie per la giustizia climatica, dalle battaglie per la casa, sono tutte questioni connesse proprio perché, come dicevamo prima, giustizia sociale, giustizia climatica e giustizia sociale. L'abbiamo fatto dopo la pandemia facendo una scommessa, provando a rifare un climate camp al centro sociale rivolta e andando ad attaccare uno dei simboli nel nostro paese dello sfruttamento dei territori e delle nostre vite, che è Eni. L'abbiamo fatto andando a occupare la bioraffineria di Eni, l'abbiamo fatto con i nostri corpi, sanzionandola pesantemente e ci siamo messi in gioco. Questo perché siamo stanchi di false promesse, siamo stanchi di falsi greenwashing, perché sappiamo bene che Eni è colui che devasta i territori non solo a casa nostra ma in giro per il mondo e sappiamo anche bene che purtroppo Eni è colui che finanzia le nostre università. L'abbiamo visto a Padova, l'abbiamo contestato più volte il fatto che l'Università di Padova avesse degli accordi con Eni e mi dispiace che non possono essere qui presenti con noi, però anche qui a Padova abbiamo un neonato istituto di ricerca per la giustizia climatica, questa è una conquista e parlando con i professori ricercatori che lavorano in quel campo dicevano che questi accordi sono tutto quello che non possono accettare loro per quello che fanno, ossia ricerche sullo sviluppo e la tutela del territorio. Allora, proprio per questo penso sia necessario, importantissimo tutto quello che è stato detto prima, ossia unire la lotta e unire tutte le esperienze territoriali per cercare anche di dare a tutti quanti gli strumenti per poter tenere sotto controllo i propri territori perché l'abbiamo visto nel nostro territorio, ARPAV dovrebbe essere l'ente che garantisce le emissioni, garantisce la salute della nostra aria e della nostra acqua e col caso della Miteni, dopo interverranno immagino anche gli altri comitati e vi spiegheranno meglio, però anche nel caso della Miteni i dati degli inquinamenti si sapevano già e sono stati fatti uscire solamente dopo le analisi indipendenti fatte da Greenpeace quindi l'importanza anche di tenere tecnicamente e scientificamente sotto controllo i nostri territori sono importantissimi. finisco dicendo che ovviamente questo è un primo appuntamento è estate nel bel mezzo di una pandemia, fa caldo siamo un po' anche tutti stanchi dalle ultime mobilitazioni a Venezia però sicuramente a ottobre secondo me ci sarà l'occasione per promuovere un momento come abbiamo fatto a Vicenza di rincontro, di divisione in tavoli di lavoro per produrre una reale alternativa anche da presentare poi e per poter dar forza alle nostre battaglie e andare avanti. insomma, grazie a tutti e buona serata. grazie. 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 grazie.